C'è proprio un senso di rifiuto verso questa domanda che traduce il cuore ammalato di corruzione del traditore. Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? Come fai a dire di una persona, anche se non fosse il tuo migliore amico, che lo vendi, che vuoi guadagnarci su di lui? Come può accadere? Eppure oggi non con le monete ma ad esempio con la condiscendenza a una battuta indelicata, una presa in giro, anche noi sappiamo vendere bene le persone. Se il ridere alla battuta di quello forte mi mette nel gruppo dei forti, beh allora posso anch'io mettermi dalla parte di bullet e ridere un'altra persona che magari non conosco neanche troppo bene. Il difetto in fondo è lo stesso, il peccato che origina questo vizio del mettere in vendita l'altro è identico in Giuda, in Pietro, in ciascuno di noi. Se l'altro non è dono non potrà che ridursi a semplice oggetto. In un mondo fatto di vetrine come il nostro tutti gli oggetti hanno sempre un prezzo. Possono essere comprati, venduti, possono andare in saldo, possono essere motivo di fallimento. Dobbiamo tornare alla presenza dell'altro come dono incalcolabile per la mia vita. E allora saremo liberi dal commercio dei rapporti e dei tradimenti.